In questa puntata di Vivere in Salute parliamo di medicina palliativa, l'occasione un incontro che si è svolto a Santa Maria Maggiore per far conoscere al pubblico questo tipo di terapia. Quello in Valle Vigesso è stato il primo di una serie di appuntamenti sul territorio, il prossimo sarà al centro San Francesco di Verbagna Pallanza venerdì 6 settembre alle 21. Questa iniziativa è dei medici palliativisti dell'ASL VCO e dell'Associazione Angeli dell'Hospice che ha voluto anche una borsa di studio per un medico palliativista a domicilio dei pazienti. L'Associazione Angeli dell'Hospice promuove la creazione di una borsa di studio finalizzata a che cosa? È finalizzata alla borsa di studio per un medico palliativista a domicilio del paziente. È una borsa di studio che prevede 20 ore settimanali per i pazienti del Verbano Cusio-Ossola che quindi è una zona molto ampia, molto impervia e che ha bisogno davvero di questo medico palliativista. Ecco, per sensibilizzare il pubblico si stanno organizzando una serie di incontri sul territorio. Il primo a Santa Maria Maggiore, poi? E poi ci sarà un secondo incontro a Verbania a settembre, il terzo incontro sarà a Domodossola nel mese di ottobre e il quarto incontro a Cannobio nel mese di novembre. Quali sono le finalità dell'Associazione Angeli dell'Hospice? Sostenere i pazienti che sono affetti da una malattia inguaribile, pazienti e anche i familiari del paziente proprio perché nella fase finale della vita è importante il sostegno sì del medico ma anche di tutta l'equip infermiere, assistente sociale, assistente spirituale, i volontari e quindi noi come volontariato Angeli dell'Hospice aiutiamo proprio a sostenere questi pazienti e queste famiglie. Dove siete e chi avesse necessità di contattarvi che cosa può fare? Allora siamo a Verbania, esiste un sito, potete contattarci ai numeri che ci sono sul sito. Dottore che cosa sono le cure palliative? Le cure palliative sono una branca della medicina che si occupa del trattamento dei pazienti che non rispondono più alle terapie delle patologie di cui sono affetti per cui la cura tradizionale viene abbandonata e ci si rivolge all'attenzione quindi nostra, si rivolge alla cura dei sintomi, al benessere del paziente inteso in senso generale quindi non soltanto per quanto riguarda i disturbi dei vari organi come noi medici purtroppo spesso siamo abituati a considerare gli organi e non le persone nella loro essenza. Noi ci curiamo molto di quello, curiamo molto anche l'aspetto psicologico, la consapevolezza, insomma cerchiamo di accompagnare i pazienti laddove appunto la medicina non può più curare la patologia cerchiamo di accompagnarli verso un fine vita che sia dignitoso e che non faccia soffrire soprattutto questo è lo scopo principale. Come si accede? Si accede attraverso una prassi che è consolidata, una prassi che è in vigore in tutta Italia praticamente dove più dove meno comunque attraverso le consulenze che noi facciamo sia negli ospedali, nei vari reparti, sia a domicilio dei pazienti, sia nelle residenze sanitarie per anziani sia negli istituti convenzionati, noi interveniamo laddove i curanti appunto decidono di abbandonare le terapie per cui ci chiamano per una consulenza e se appunto i requisiti sono corretti ci prendiamo carico di questi pazienti ce ne prendiamo a carico a domicilio possibilmente perché è ovvio che il malato preferisce stare a casa laddove non ci siano le condizioni e ci sono tutta una serie di criteri che noi dobbiamo osservare perché altrimenti non possiamo seguire il paziente con efficacia, altrimenti li ricoveriamo nel nostro ospice. Un momento molto difficile è quello delle cure palliative per la famiglia ma quali sono i principali scogli nella vostra esperienza che la famiglia deve incontrare? Innanzitutto quando cominciamo a prenderci carico di un paziente da cure palliative verifichiamo a 360 gradi quelli che sono le esigenze sia del malato sia della famiglia quindi come già accennava il primario dovremmo riuscire anche in poco tempo a capire quali possono essere le esigenze sia dal punto di vista sanitario ma anche dal punto di vista psicologico, religioso eccetera eccetera ed è per questo motivo che l'equip multidisciplinare si compone di varie figure professionali che vanno dal medico, pagliativista, l'infermiere, gli assistenti sociali, lo psicologo, parte di assistenza religiosa, i fisioterapisti eccetera eccetera Gli scogli ovviamente principali sono sempre quelli, noi ci collochiamo borderline cioè in una fetta, proprio in una zona molto molto difficile tra il passaggio in cui ovviamente il paziente cerca di rimanere attaccato con tutte le proprie forze, quella che è ancora una speranza di guarigione quando però ovviamente provate tutte le carte di esposizione, sparate tutte le bombe di esposizione dalla medicina tradizionale non si riesce più a garantire un qualcosa che sia utile o per uno scopo curativo o di guarigione lì bisogna cercare di essere più chiari possibile sia con il paziente sia con la famiglia e cercare di impostare un iter che deve essere quello di, è vero, di proporre ma di condividere quelle che sono poi le nostre terapie Quanto è importante la presenza di un medico pagliativista a domicilio? Lo spunto insomma che ci dà quest'oggi per parlare di questo tipo di cure? Il medico a domicilio è fondamentale perché le cure pagliative dovrebbero tutte essere fatte a domicilio quindi lo scopo principale delle cure pagliative è quello di intervenire a domicilio di lasciare il paziente nella propria casa garantendo le cure che possono essere fatte sia a casa sia a livello ospedaliero ma allo stesso modo con gli stessi farmaci nelle stesse modalità se però sia dal punto di vista della patologia sia dal punto di vista della famiglia o della non idoneità della casa quindi una mancanza strutturale ad esempio non possono essere fatte a casa allora c'è l'alternativa dell'ospis questo è importante perché da lì viene fuori la figura del medico pagliativista cioè un medico che porta la propria esperienza, la propria professionalità a casa non più il paziente che viene a farsi curare in ospedale ma mantiene al proprio domicilio assicurandosi però una cura che è fondamentalmente molto specialistica a livello ospedaliero Ci sono già dei medici pagliativisti sul territorio e come è organizzato questo sistema? Nel 2009 è stata istituita la struttura complessa di cure pagliative ed è stato per cui istituito un organico di tre medici ovviamente le risorse, lo sappiamo benissimo, le risorse delle ASL non sono infinite e sono scarse attualmente avendo bisogno di un maggior numero di medici e colgo l'occasione per ringraziare la nostra ONLUS è stata istituita una borsa di studio appunto per cui siamo riusciti ad aggregare un ulteriore medico nel nostro organico quindi siamo noi che lavoriamo sia all'ospis sia a domicilio dei pazienti Quanti pazienti seguite annualmente? Mediamente sull'ospis abbiamo una media 150 ricoveri lo scorso anno attualmente stiamo assistendo sui 150-160 pazienti a domicilio che sono ancora pochini per quanto riguarda il territorio probabilmente ne potremo ruolare di più è necessario farci conoscere, far conoscere le cure palliative diciamo che questo è uno strumento utile per informare la popolazione che esistiamo Perché abbiamo visto che è una giornata d'agosto in una località di vacanza però la sala è piena Speriamo che sia così un po' dappertutto abbiamo in previsione di fare numerosi incontri sia con gli addetti ai lavori fondamentali perché anche i medici tante volte non conoscono pienamente la nostra attività cerchiamo di farci conoscere dalle popolazioni e sinceramente cerchiamo anche di raccogliere dei fondi perché tutto sommato senza quelli si fa fatica Siamo al termine di questa puntata di Vivere in Salute Per qualsiasi informazione potete chiamare il numero verde 800-307-114 connettervi al sito www.aslavco.it oppure scrivere a vivereinsalute-aslavco.it indirizzo utile anche per segnalarci argomenti di vostro interesse Noi torniamo giovedì prossimo